È una notizia importante in cui ci fa piacere dare conto perché il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di violenza contro le donne e le ministre, in questo momento sta parlando la ministra Lamorgese, stanno raccontando, e ancora lì sono tutte al completo, stanno raccontando i provvedimenti di questo testo che ha avuto una gestazione molto lunga e che prevede un inaspiramento di pene per chi commette reati di violenza, molestie contro le donne.